Definire investimenti significativi a livello nazionale, valorizzare tutto il tema degli invasi, ma soprattutto occorrono investimenti sulle tecnologie. Sono queste le proposte che l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, ha portato all'Assemblea Nazionale dell'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorsi, per la tutela e la gestione del territorio e delle acque irrigue. L'acqua, ricordato Palermo, condiziona il 18% del PIL nazionale, ma soprattutto è indispensabile anche per lo sviluppo industriale, oltre che per quello agricolo. Il tema dell'acqua, il tema idrico, ormai è sicuramente prioritario per il Paese. L'acqua condiziona una parte significativa del PIL, circa il 18%, e condiziona anche, in una certa misura, anche quella che è l'economia del mare, che pesa per un 20% sul PIL, per cui è chiaro che è determinante non solo per il settore agricolo, ma anche per il settore industriale. Su questo il Governo ha recentemente varato degli interventi importanti. L'obiettivo è definire anche degli investimenti a livello nazionale significativi. La CEA, come azienda impegnata nel più grosso investimento attualmente sull'idrico in Italia, che è il raddoppio del peschiera, crediamo che a fronte di questo ci sia necessario fare altri interventi, ovvero valorizzare tutto il tema degli invasi, che può essere sicuramente una maniera per attenuare il problema, ma poi fare anche investimenti sulle tecnologie. Tecnologie che oggi sono disponibili e che consentono, dove è applicato, e noi ne siamo l'esempio su Ato2 qua a Roma, di portare a risultati molto interessanti. Una riduzione delle perdite che oggi su Roma viaggia intorno al 27% contro una media nazionale oltre il 45%. Io credo che su tanti altri temi, se si pensa all'energia elettrica o al gas, esiste un sistema nazionale e una rete nazionale. L'acqua, pur essendo una risorsa storicamente molto importante per lo sviluppo, non ha mai avuto una visione così integrata. È il momento di attuarla, noi come primo operatore in Italia lo faremo e crediamo che un'integrazione forte tra un approccio industriale come il nostro e quello anche dei consorsi sia fondamentale, perché la risorsa deve essere gestita in modo integrato il più possibile, capendo anche quali soluzioni attuare al meglio ai fini del Paese.